salve oggi non voglio parlare del governo perché sparare sul governo e vincere è facile allora ce ne ho gettate tante sul governo volevo prendere un po' la sanità bondoboia perché adesso con sta storia del covid non puoi più fare gli esami non puoi più fare operazioni non si può più fare niente ho chiesto un appuntamento per fare gli esami del sangue mi hanno mandato avanti due mesi diventa acqua due mesi e allora cosa ho pensato io mi faccio gli esami fai da te ma arrancio da solo e cosa ho fatto adesso oggi no perché brutto ma gli altri giorni su un sito che c'era una bella giornata cosa ho fatto ho pisciato sul prato poi ho aspettato un attimo guardato stavo arrivavano le formiche contento come la pasqua ho detto ecco se vengono a banchettare le formiche abbiamo il diabete mi sa che dobbiamo fare attenzione un'altra volta vado in un altro angolino poi dopo lo piscio sento una puzza di grigliata strinata viene il dubbio che sia il colesterolo alto e si è poi dopo un'altra volta l'ho rifatto per dire così come vedo che spruzzo di qua mi piscio sui piedi di qua e di là allora penso aia viviamo la facile prostata perché ormai è già ora con l'età che ho vabbè poi dopo ho fatto gli esami diciamo visivi mi sono guardato a basso e non lo vedevo più ho pensato forse è meglio cominciare a pensare a fare una dieta perché l'ho perso poi se capita a me per il momento non ancora se ti capita di uscire di casa vestito con la cravatta tutto benino però senza pantaloni e mutande un controllino d'alzheimer forse è meglio per evitare tanti problemi bisogna fare così perché sennò qui si deve dare un appuntamento all'ospedale mo te passa il tempo tanto qua adesso hanno già aumentato fino a tutto il mese d'aprile ma non è mica finita qui mi sa che se tutto va bene forse avremo qualche colore chiaro ma chiaro nel senso arancione chiaro giallo scuro verso agosto che per il momento qui stanno sguastando solo i comunisti che vedono l'italia tutta rossa ciao